Comunque io penso che quello che stiamo facendo noi è portare avanti un sistema che non è tanto per esaltare i consumi, perché alla fine si consuma poco, ma è la sicurezza, la sicurezza in sé del mezzo. Vai a volare, non prendi la calcolazione, non prendi niente. Quindi è il il mezzo migliore per poter volare, in sicurezza. E calcolare il punto di fare la volta per una volta che stiamo con 2 minuti. 2 minuti? Màximo. Màximo. Ci costringe a cambiare le nostre tattiche e quindi studiare delle strategie diverse che ci permetteranno, speriamo, di ottenere ottimi risultati. Siamo pronti per il pecollo. Voy a salire alla prova di navegazione con economia pura, con 2 litri. Il motore è andato veramente molto bene. Si regoliamo in condizioni calciate, la depressione, tutto. Il EFIT fa tutto per te. Al andare con la inyezione elettronica va super redondo. Te dà la potenza che necessita e senza salti. Va tutto il rato perfetto. La verità che mi dà molta sicurezza, molta tranquillità quando vuelo con il. mi piace, mi piace molto. La tecnologia è a nostro servizio. Io sono Pasquale Vallée, direttore di corse del Campionale di France Paramoteur. Io mi spiegherò in nome del Polsport. Noi siamo molto felici di avere dei costruttori che investiscono come Vittorazzi nella competizione. Il Monster con l'EFIT ci ha dato veramente, veramente grande soddisfazione. Pasquale Diondo. Ci portiamo a casa una bella esperienza. Siamo sicuri che questo motore ci darà ancora grandi soddisfazioni in futuro, nelle prossime competizioni e anche per tutto il pubblico, logicamente. Ci porterà molto molto lontano.